Tra poco parte la diciassettesima edizione di Kilowatt Festival, intanto c'è questo, chiamiamolo, titolo o invito comunque, partecipare è normale, perché? Beh, perché Kilowatt è un festival che ha fatto sempre dell'idea di partecipazione attiva dei spettatori e dei cittadini, il proprio marchio di fabbrica, diciamo così. E semplicemente vogliamo dire che i linguaggi del contemporaneo, il teatro, la danza, il circo, non sono linguaggi di cui avere paura, ma che è molto più interessante entrare dentro e prendere parte che guardare da lontano con un po' di diffidenza, che in fondo è un invito che facciamo a chiunque ci sta guardando. Ecco, intanto partiamo un po' da quella che è stata l'edizione passata, numeri importanti immagino. Beh sì, il festival, non sono io a dirlo, penso che sia un dato aggettivo, è probabilmente diventato l'evento di spettacolo dal vivo, legato al teatro, alla danza, insomma a questi linguaggi, più importante del nostro territorio provinciale. L'anno scorso abbiamo staccato 4.900 biglietti paganti e almeno altrettanti, se non di più, partecipanti agli eventi gratuiti, quindi insomma sono numeri importanti, soprattutto se collegati al tipo di linguaggio, perché chiaramente il Kilowatt non è un festival dei grandi nomi televisivi, è un festival di tutto ciò che di più interessante, di più innovativo si muove nel professionismo teatrale italiano. Quindi in questo senso anche tutti quelli che non ci conoscono, insomma nella città di Arezzo o comunque nella nostra provincia, magari questa è l'occasione per venire a scoprire che cosa accade a Sansepolcro. Cosa succederà in questa 17esima edizione, quali saranno gli artisti, quale sarà la proposta? Difficile sintetizzarla chiaramente in pochi minuti, però sicuramente possa andare anche qui qualche numero. Gli spettacoli sono 75 in nove giorni, quindi davvero è una buffata di cose, ogni giorno ci sono 7-8 spettacoli diversi, alcuni anche in contemporanea, alcuni formati molto piccoli, magari anche spettacoli con 20 spettatori, ce n'è uno in occasione dell'anniversario dei 50 anni dell'allunaggio realizzato ogni giorno in una casa diversa, quindi in nove case di cittadini di Sansepolcro. C'è un lavoro che presentiamo con Elio Germano, il famoso attore cinematografico, che è in realtà virtuale, quindi si vedrà con questi occhialini e cuffie, insomma, quindi dinamica completamente tridimensionale, però in realtà si vede su delle cuffie, su dei visori, insomma. E poi ci sono invece anche i grandi spettacoli per numeri più significativi, la piazza di Sansepolcro, piazza Torre Liberta, è il luogo che accoglie a ingresso libero tutti gli spettacoli del circo contemporaneo, che non immaginatevi leoni o robe simili, ovviamente si tratta del futuro del circo, quello fatto dagli esseri umani, con equilibrismo, insomma, una grande capacità di gestione del corpo. E poi tutti i vari spazi in cui il festival si tiene, il teatro alla misericordia, l'auditorio di Santa Chiara e via dicendo, sono otto palchi, quindi davvero tutta la città di Sansepolcro è invasa, i biglietti sono davvero molto popolari, i prezzi di ingresso, sono nove euro, ma addirittura sei euro per chi ha la kilowatt card, quindi insomma è davvero un'occasione, un modo per dire a tutti che il teatro può essere di tutti e per tutti, che non bisogna averne paura, bisogna buttarsi e forse anche spegnere il cervello e abbandonarsi alle emozioni.